Noi abbiamo accettato questo tipo di progetto e devo dire è uno dei tanti, onestamente, progetti che ci vengono proposti e che sono degni di grande considerazione. Io dicevo prima in sede di conferenza stampa che a volte ci piangiamo un po' sotto, un po' addosso, perché in realtà Cilidavecchia è una città che ha un substrato culturale molto importante. Ha delle persone che credono in certe cose, come questa associazione, che vedo che è molto attiva, molto fattiva. L'altro anno ha presentato un progetto, quest'anno già vedo dei miglioramenti e sempre in fieri. Quindi noi dobbiamo sempre di più creare sinergie anche tra le associazioni, in maniera di fare insieme dei progetti, anche se anno dopo anno, itinerante, tornazione, quello che sia, ma che possano sempre più valorizzare la nostra città e il nostro territorio a fronte del fatto che le basi vi sono tutte per poter fare un discorso di grosso livello culturale. Quindi da parte della Fondazione un sostegno naturalmente all'associazionismo, laddove promuove progetti interessanti che possano avere delle ricadute sul piano artistico e culturale della città. Ma l'appoggio della Fondazione vi è sempre stato. Vi è sempre stata anche la richiesta di maggiore sinergia. Da qualcuno è stata accolta, da qualcun altro no. Però debbo dire che qualche cosa si sta muovendo, anche nel volontariato, perché poi io ritengo che l'associazionismo locale e territoriale sia fra i migliori che ci siano, per quel poco che ho potuto vedere. Quindi è importante creare sempre più sinergie, perché è arricchimento, non tanto per le associazioni quanto per la collettività. Allora, il Presidente della Fondazione ha parlato di sinergia. Sì, è importante la sinergia con il mondo dell'associazionismo, ma naturalmente si parte dal patrocino del Comune che deve sostenere queste iniziative e quindi si torna a un appuntamento di grande significato che impegnerà per vari giorni anche il centro della città. Sì, effettivamente noi come amministrazione ringraziamo la Fondazione perché ci ha dato il supporto affinché questo progetto si potesse realizzare, ma ringraziamo l'Associazione Piacere dell'Arte che comunque lavora tutto l'anno affinché questo evento possa realizzarsi. Come dicevo prima, questo è un evento che comunque va a colmare un vuoto nazionale perché eventi dedicati a questo settore dell'arte in Italia sono davvero pochissimi e tutti gli artisti che sono venuti da tutto il Paese a Civitavecchia ci hanno ringraziato e hanno apprezzato tantissimo questo evento. Quest'anno ci sono artisti che hanno esposto a New York qualche settimana fa, quindi il livello è veramente altissimo. Noi sopporteremo l'Associazione affinché questo evento possa crescere e possa diventare davvero un riferimento per tutto il Paese, magari anche di più. Civitavecchia deve essere orgogliosa perché comunque è un'iniziativa partita da Civitavecchiesi che ha una risonanza sì esterna, ma soprattutto a livello locale, perché dopo quel primo evento, dopo il primo concorso, abbiamo scoperto che a Civitavecchia sono davvero tantissime le persone che sono appassionate di disegno e per realismo e quindi diamo anche a loro un riferimento che possa far crescere ancora di più la propria passione in modo che la loro passione in sinergia con chi si impegna a far sì che questo evento diventi più grande ci dia la possibilità veramente di fare qualcosa di bello. Grazie a tutti.